Il giorno dopo Lazio-Roma, ieri sera non ho potuto fare il video per motivi esterni al calcio, ma anche se avessi potuto farlo non so se ci sarei riuscito, ecco perché mamma mia ragazzi, cioè avvilente una partita del genere, non trovo un altro aggettivo, avvilente una partita del genere, ma andiamo con calma visto che stranamente sono pure abbastanza calmo forse appunto perché abbiamo tutti un po' smaltito, non dico totalmente ma almeno in piccola parte, la rabbia di ieri sera, la rabbia ma non in generale, cioè perché abbiamo perso nettamente, è stata una partita penosa, un derby penoso per noi che guardavamo da casa, per chi era allo stadio, che ok, va allo stadio per tifare in primis la squadra del proprio cuore, per carità, però cavolo, io direi che si va allo stadio anche in buona parte per divertirsi, per alzarsi continuamente dalla sedia, magari vedi un'occasione da una parte, un'occasione dall'altra, cioè ieri ragazzi è stato avvilente, quando ti viene voglia di cambiare canale e di mezzo c'è la squadra del tuo cuore, un motivo ci sarà, cioè il primo tempo soprattutto, nessun tiro praticamente, ma al massimo uno, ma una roba a livello tecnico, imbarazzante è dir poco, imbarazzante è dir poco, poi inizia il secondo tempo, la Lazio ti frega subito, come era successo contro la Juventus allo stadio, i primi minuti fatali, la Lazio con quello sprint iniziale diciamo ti imbriglia la partita, perché poi sappiamo che la Roma, quando spesso e volentieri va in difficoltà, c'è un episodio a sfavore e mica reagisce, no, non ce la fa, e la Roma fino al novantesimo circa, quando impegna per la prima volta Mandas, che era esordiente, Mandas era esordiente a livello assoluto con la Lazio, cioè esordiente nel derby, tu non lo impegni praticamente mai, Già questa è una roba veramente fuori dal mondo, fuori dal mondo, però comunque la Roma, dopo il vantaggio della Lazio sul rigore, non fa praticamente nulla fino agli ultimi minuti quando, cavolo, cioè se non fai nulla negli ultimi minuti, quando sei sotto, quando la Lazio si schiaccia tutta dietro per difendere il risultato, cioè sarebbe stato non grave di più, non tirare almeno una volta in porta, nel complesso della partita, ma tirare una sola volta in porta in un derby, è una roba imbarazzante a dir poco, imbarazzante, quindi comunque è stata una partita, una serata veramente di merda, veramente uno schifo totale per tutti, per chi ha visto la partita, ok, ripeto ancora una volta, se ti fa la propria squadra del cuore, chi va allo stadio, pensa in primis a ti fare, poi pensa al risultato, ok, tutto giusto, però maledizione, non si può vedere assolutamente una partita del genere, e ripeto, quando ti venne voglia di cambiare canale, e c'è di mezzo la tua squadra del cuore, la cosa è veramente grave. Comunque, perdiamo 1-0, la Roma e la Coppa Italia, abbiamo capito che soprattutto negli ultimi tempi, ma negli ultimi anni, non vanno d'accordo, era una partita che si poteva vincere perché è una partita talmente brutta, insomma, poi sappiamo che la Roma vive di episodi spesso e volentieri, cioè non ha un gioco, non riesce a comandare la partita che dice ok, mette sotto l'avversario, vive un po' di episodi, no? Questa volta, episodio negativo, però tu devi saper anche reagire alle cose negative che ti succedono, cioè non mi sta bene, ed è successo troppe volte che la Roma magari prende un gol, la Roma ha un'espulsione contro, insomma, è un episodio negativo, ecco, in generale, e si scioglie, non riesce a reagire, è una cosa grave, ovviamente. Però, primo tempo pessimo, qualitativamente, sia da parte romanista, ma anche da parte nazionale, ad un certo punto, per dieci minuti circa, veramente, cioè non si riuscivano a fare più di due passaggi in fila, la Roma non riusciva a fare più di due passaggi in fila, abbiamo che cosa? Abbiamo tenuto bene, cioè è stata la partita delle difese nel primo tempo, diciamo, della corazzata difensiva, anche se, soprattutto noi, abbiamo provato in qualche situazione a fare dei regali a Razziali, lì, due o tre volte, dietro un passaggio di Christensen, mi ricordo Kalasdorp forse ad un certo punto, insomma, ci abbiamo provato, no? Ad complicarci il derby prima del tempo, come succedeva quando c'era i bagnez, che, insomma, vabbè, è diventato anche un mezzo meme, però comunque, no? Ricordate, quando c'era il derby, i bagnez dava il meglio di sé, proprio nei derby, con errori cavolate varie, vabbè. Comunque, primo tempo pessimo, ripeto, Lukaku è lì davanti, cioè isolato, non gli arriva una palla che sia una buona, può spizzare il pallone si di testa, ma per chi? Per se stesso, in alcune situazioni non si è capito con Bove, Bove che l'anticipa di testa, è lui che sembra aver richiamato la palla, però non c'è comunicazione, poi quindi si iniziano ad innervosire gli animi, però, finché sei 0-0, è comunque un derby, è un derby pessimo, però si va negli spogliatoi a bere un teccado sul risultato, appunto, di parità. 0-0, in difesa, bene Aysen o Hoisen, non so come si dica precisamente, dire la verità, però, bene Hoisen, e quindi poi io me la prendo, me la prendo con chi a fine partita magari ha dato la colpa ad Hoisen, eh, ecco Murigno, non doveva far giocare questo ragazzo, che schifo, è stata una scelta pessima, ma Hoisen, fino a quel momento, aveva fatto bene sì o no, Hoisen è un ragazzo di 18 anni, olandese che non ha mai giocato in Serie A, prima di queste due partite, prima, cioè non ha mai giocato in Serie A, nel senso, non ha mai esordito, no, con una grande squadra, prima di queste due partite con la Roma, è stato buttato nella mischia contro l'Atalanta e ha fatto comunque discretamente. Ieri sera stava facendo bene in Coppa Italia, con la Lazio, in un derby, quindi una partita, no, super pesante, cioè la più pesante, la partita proprio il macigno per eccellenza, no, a Roma, da ambo le parti, cioè è il derby, cavolo, e stava facendo bene, stava facendo bene, con sicurezza, cioè mi sembrava veramente tanto tanto sicuro. Poi, questo errore, questo errore è un errore, sì, un calcio in ritardo, il rigore c'è, al contrario di quello che dice Murigno, ma come c'era il rigore su Carsdorp l'altro giorno, insomma, cioè, Murigno che a fine partita dice, ora, io non ho sentito tutta l'intervista, avrà detto sicuramente altre cose, però quando tu vuoi dire, abbiamo perso, abbiamo perso, no, e quindi sposti l'attenzione ancora una volta, no, perché è stata una partita di merda, la Roma non ha fatto nulla, ci si dovrebbe concentrare su quello, no, in un derby, ci si dovrebbe concentrare sul fatto che sono quattro fottuti derby che la Roma non segna nemmeno un gol, quattro derby di fila. Non so da quanto tempo, ormai, è qualche anno che la Roma non vince più un derby, insomma, invece di concentrarsi su quello, è un rigore da calcio moderno, cioè, perché si deve spostare sempre l'attenzione? Il rigore c'è, il rigore c'è, e tu non hai perso per il rigore, hai perso perché non hai tirato la prima volta in porta al 92esimo, hai perso perché, tecnicamente, hai fatto schifo, come la Lazio nel primo tempo, solo la Lazio poi ha avuto quei primi minuti nel secondo tempo in cui poi te ne poteva fare anche un altro perché quando trovano gli spazi, poi in ripartenza, in velocità, insomma, e la Lazio stava giocando anche senza Immobile, senza Luis Alberto, senza prove dell'appunto in porta, e tu ti permetti di impegnare, tra virgolette, Mandas una sola volta, una sola volta in pratica a fine partita, e mi ricordo anche un'uscita nel primo tempo, no, alta su Lukaku forse, vabbè, e non mi è sembrato nemmeno così sicuro Mandas, cioè, ripeto, un portiere che è all'esordio assoluto con la Lazio, esordisce nel derby, tu non lo impegni, ti permetti di non impegnarlo mai, di fargli fare una partita che, cioè, se io l'avessero detto prima, non ci avrebbe creduto Mandas, credo, no? Esordire in un derby facendo praticamente poco e niente, e quel poco che fa non è nemmeno troppo sicuro, cioè, se, insomma, scusatemi ma mi rode, no? Mi rode, sembra veramente una partita regalata proprio, no? In tutti i sensi, e quindi no, è il rigore, l'attenzione è incentrata sul rigore, va bene, va benissimo così, e ma, cioè, non può reggere una cosa del genere, poi ripeto, non ho sentito l'intervista posgara, sicuramente avrà detto altre cose, magari, lo spero, insomma, si sarà assunto la colpa, anche lui, ma la colpa, in questi casi, è di tutti, giocatori, ma anche dell'allenatore, perché non è possibile, arrivati al terzo anno, cioè, che in queste partite non si... cioè, hai degli episodi negativi, quindi, ti capitano degli episodi contro, e ti sciogliono, riesci a reagire, quasi per inerzia, vai avanti, no? Cioè, è sempre la stessa cosa che si ripete, si ripete, si ripete, si ripete. Non è possibile, no? Non è possibile, a un certo punto devi cambiare pagina, devi svoltare, ripeto, sono quattro derby che non segni di fila, non ricordo più quando sia stata l'ultima vittoria della Roma nel derby, e non va bene, non va bene. Ma, a parte, diciamo così, il derby in sé e, tra virgolette, il provincialismo, cioè, anche nelle altre partite, anche in altri big match, ora, se si inizia ad analizzare un po' la cosa, tu hai pareggiato in casa con la Fiorentina, ed è stato, alla fine dei conti, anche un punto d'oro, perché potevi pure perderla, per come si era messa, e vabbè. Hai perso a Bologna, hai vinto col Napoli, in casa contro un Napoli, che poi, l'abbiamo visto, no? Alla fine, è allo sbaraglio, cioè, nel senso, una squadra allo sbaraglio, quindi, hai vinto in casa col Napoli e... va bene, ok, hai perso, poi, a Torino con la Juventus, e lì, diciamo, avevi fatto, comunque, una buona partita, una bella partita, e, purtroppo, però, gli episodi, la Juventus, poi, che non so quante partite abbia vinto, no, con un gol di scarto, ci sta pure là, anche se mi rode, veramente, ancora, ancora adesso, quel palo all'inizio, qualche occasione, insomma, vabbè. e... poi, vabbè, la vittoria con la Cremonese in Coppa Italia, eh... faticando tantissimo, rischiando ancora una volta di uscire contro la Cremonese, e vabbè. e... con l'Atalanta, il pareggio, in casa, e anche qui c'è un po' di rammarico, e potevi vincerla, insomma, e ora, questa sconfitta con la Lazio in un derby, penoso, penoso. il Milan ha perso il proprio quarto di Coppa Italia, in casa contro l'Atalanta, anche lì, polemiche arbitrali, e, tra l'altro, apro una parentesi e la chiudo subito, queste polemiche arbitrali, veramente, basta, il VAR, mettete a posto questo VAR, perché, veramente, mi passa la voglia di vedere le partite, con questa storia del VAR, cioè, cose talmente palesi, in generale, che non si capisce come il VAR non possa vedere, non possa intervenire, non c'è uniformità di giudizio da un caso all'altro, insomma, da un episodio all'altro, da un match all'altro, veramente, basta. Mi sta venendo la nausea, anzi, mi è già venuta la nausea, ho già vomitato, sinceramente, ho già vomitato, però, quindi, tu potevi fare, dovevi fare di più, in questa tranche di partite, perché, comunque, quei punti anche persi ad inizio campionato pesano, ti sei complicato arrivando secondo in Europa League, cavolo, cioè, non nascondiamoci, ieri sera era da vincere, proprio perché sarebbe stata una svolta, sia a livello di statistiche, segnavi nel derby dopo tre derby, tornavi a vincere un derby dopo non so quanto tempo, passavi il turno, andavi in semifinale potenzialmente contro la Juventus, sfida andata in ritorno, quindi, magari, no, non ipoteticamente secca allo stadium, e quindi, no, si fa tutto più complicato, eccetera, cioè, per tanti fattori, dovevi vincere, tu non solo non hai vinto, ma hai giocato una partita di merda, di merda, poi, però, il rigore moderno, ma veramente, ma fatemi il piacere, io me la prendo, perché non ricordo, tra l'altro, se ho finito di, quel discorso precedente su Hoisen, lui ha sbagliato, ma veramente, cioè, volete dare addosso a un ragazzo che è stato buttato in campo contro l'Atalanta, contro la Lazio, stava giocando bene, poi fa un errore, un errore grosso, il rigore c'è, tira un calcio in ritardo, cioè, ma veramente, volete dargli addosso? io non me la sento assolutamente, non me la sento assolutamente, ma cosa vi volevate aspettare, una prestazione, che ne so, ecco, visto che siamo in tema, negativamente parlando, alla Beckenbauer, tra l'altro, riposa in pace, Franz, Beckenbauer, io non mi aspettavo delle prestazioni alla Beckenbauer, e anzi, vi dirò, per come stava giocando, nel derby, al suo primo derby, alla seconda partita con la Roma, alla seconda partita in un calcio, cioè, nel calcio che conta, no? In generale, stava giocando pure bene, mi trasmetteva sicurezza, e poi arriva, arriva questo episodio, che serve solo, no? per, no, per aizzare, poi, le polemiche, quelle e quella, non doveva metterlo dentro, quello e quell'altro, ma dai, su, ma dai, come fate a dargli addosso? Non lo so, comunque, Roma, ripeto, che non riesce a fare due passaggi di fila, non riesce a fare un tiro in porta, non riesce a crossare, perché di tutti i cross che ho visto, poi vabbè, i terzini, veramente, penosi, penosi, perché quando non si riesce a puntare mai l'uomo nell'arco di una partita, è una partita penosa, il terzino dovrebbe fare anche quello, un terzino d'attacco, uno che, cioè, dovrebbe spingere, niente, poi, quando si arriva a crossare, i cross fanno veramente schifo, fanno veramente pena, quindi, insomma, traete voi le conclusioni, ditemi voi, insomma, un aspetto positivo della serata di ieri, ditemelo voi, io non lo riesco a trovare, non lo riesco a trovare, e, quindi questo è ragazzi, ora, che dire, speriamo bene col Milan, Milan-Roma, anche il Milan ieri comunque, insomma, ripeto, perde il proprio quarto di Coppa Italia, contro l'Atalanta, quindi, saranno arrabbiati neri, magari con spirito di rivalsa, non è un periodo, proprio grandioso per il Milan, eccetera, eccetera, quindi vediamo, vediamo cosa accadrà, e speriamo di tirare fuori, almeno, una buona prestazione, e poi, non so, cioè, non so cos'altro dire, se dovessi perdere pure a Milano, non lo so, traete voi le conclusioni, iscrivetevi, campanella, mi piace, ditemi la vostra, qui sotto nei commenti, comunque, forza Roma sempre, al prossimo video. Grazie.